John Bourne ragazzi John Bourne benvenuti in questo nuovo video benvenuti come vedete qui alla mia destra nel mercato che farei del Bologna allora prima di cominciare ragazzi rapidamente un paio di cose 479.100 iscritti siamo qui arriviamo a 480.000 iscritti come vi ho promesso vi porto il mercato che farei del Genoa quindi mi raccomando se volete il mercato che farei dell'altra neopromossa quindi del Genoa lasciate qua sotto una marita mi piace l'altra perché già è uscita una neopromossa manca in realtà poi la terza che sarebbe il Cagliari e la faremo più avanti 480.000 iscritti un'altra cosetta e lasciate tante signore sotto questo video vi ringrazio per l'affetto che state avendo in quasi tutti i mercati che farei mi raccomando recuperatevi tutti quelli che vi siete persi nella playlist sul canale quindi vi fateci un botto ne mancano veramente pochi di serie A poi faremo anche qualcuno estero che stiamo alternando in base anche a quello che succede in Europa aggiungo anche un'altra cosa oggi uscirà probabilmente il sesto ottavo di finale su otto del Tiki Takatoe quindi preparatevi perché stasera fatelo esplodere quel video voglio dire arrivare tipo primo intent deve distruggere qualunque cosa oggi stasera dovrebbe uscire il sesto ottavo di finale quindi mi raccomando rimanete sintonizzati un'ultimissima cosa forse probabilmente oggi faccio uscire un video sull'altro canale SQLF2.0 un canale che non sto utilizzando da 4 mesi 5 mesi vi spiego perché non ho più fatto nulla non so se esce oggi esce più avanti ma comunque a breve dovrebbe uscire detto questo partiamo subito con il mercato che farei del Bologna scusate se mi sono un po' dilungato ma tanto studio dura tanto quindi un minuto e mezzo potevo anche prendermelo detto questo ho scelto di partire con 20 milioni di euro perché ho scelto di partire con 20 milioni di euro perché il Bologna quest'anno è arrivato nono e se io voglio arrivare sesto cioè se io voglio fare il salto per arrivare in Europa League credo comunque che il Bologna un minimo debba spendere non sarà semplice perché comunque i rosso-blu ci hanno diversi calciatori che se ne sono dati a parametro zero che hanno scelto di andare via e che sinceramente mi sarei tenuto volentieri ne parleremo ovviamente a tempo debito ma credo che avrebbero potuto in qualche modo tappare dei buchi che poi dovrò io andare a compensare però comunque questo è e ovviamente di questo parliamo partiremo quindi con 20 milioni da investire sul mercato per fare una squadra che sia comunque spendibile nella stagione ma soprattutto che miri a copiare il progetto Sassuolo cioè una squadra che si autofinanzia che comunque vende e compra che se segui i miei obiettivi se segui il mio mercato che farei e vi assicuro che io poi l'ho riguardato il mio mercato che farei e personalmente credo che sia fatto molto molto bene quindi penso anche che questo sia uno dei migliori mercati che farei fatti quest'anno ecco penso che se il Bologna facesse così l'anno prossimo avrebbe davvero un 60-70 milioni di euro di liquidità da rispendere sul mercato anche se poi poco bisognerebbe fare ma andiamo ovviamente per gradi vi anticipo un'altra cosa tanto qualcuno poi lo dirà ma perché non ascoltate le intro e poi ve lamentate per due minuti ascoltate le ste cazzarola di intro relativa al mercato che farei i giocatori che il Bologna ha riscattato erano messi a esercizio precedente quindi non vengono diciamo contati nei 20 milioni di riscatto Luca Moro è un giocatore che andrebbe riscattato e io ovviamente mi fido del Bologna l'hanno riscattato e mi va bene così un altro calciatore che adesso mi sfugge è stato riscattato forse Posh mi va bene così non faccio nulla non mi scalo i 20 milioni perché sono dei riscatti che sono relativi all'esercizio precedente invece ovviamente i calciatori che sono andati via diciamo per soldi o sono arrivati per soldi in questa sessione di mercato posso scegliere essendo che è il mercato che farei io e non è il mercato che farebbe il Bologna quindi non è un pronostico ma è un mio pensiero ecco vista questa cosa posso decidere se prendere il giocatore o meno detto questo partiamo dai portieri in porta vedete qui alla mia destra il Bologna, Skorupski, Bardi e Ravaglia allora vi dico la verità si era parlato di una possibilità di far partire Skorupski non ero molto d'accordo continuo a non esserlo e continuo a non esserlo ma perché si sposta il microfono continuo a non esserlo perché credo che tutto sommato Skorupski abbia sempre fatto bene a Bologna certo se l'anno prossimo il Bologna dovesse arrivare in Europa allora poi faremo le valutazioni magari andremo a prendere anche un portiere fatto bene però al momento abbiamo tanti ruoli da mettere a posto e il portiere è forse l'unico ruolo in cui si può stare tranquilli quindi perché dovrei andare su un altro portiere andare a spendere soldi sì ho 20 milioni ma veramente ragazzi ho diversi ruoli da sistemare che al momento mi creano un disagio quindi io Skorupski me lo tengo e come terzo mi tengo anche Ravaglia l'unica cosa che andrei a fare considerando che Bardi va via a parametro zero è andarmi a prendere un secondo portiere ovviamente ve lo dico subito se dobbiamo provare a capire come fare per non andare troppo sotto con i soldi questa cifra 20 milioni di euro dobbiamo tenerla così com'è e quindi il portiere che andrei a prendere lo andrei a prendere in prestito con diritto di riscatto sto parlando di Svilar dalla Roma allora io non so se la Roma me lo darebbe perché al momento pare che la Roma abbia scelto di andare avanti con Rui Patricio come primo e Svilar come secondo non mi è piaciuto alla Roma Svilar quest'anno però non mi era piaciuto manco Skorupski alla Roma cioè mi sembrava veramente un paperon dei paperoni faceva delle quaglie che veramente la metà bastavano eppure poi a Bologna Skorupski ha fatto la storia degli ultimi 10 anni quindi penso che comunque Svilar possa essere un secondo portiere al momento tanto le serve come secondo portiere cioè ti serve se Skorupski non c'è se c'è un problema, un infortunio non glielo auguro ovviamente o qualunque cosa che lo costringa a non poter partecipare a una partita cioè Svilar che comunque il suo lo fa non è una pippa è un giocatore ancora mediocre secondo me però a Bologna potrebbe trovare insomma il suo futuro potrebbe disegnare intorno a sé il suo futuro e poi la Roma l'ha pagato zero quindi se tu fai un prestito con diritto a 1,5 a 2 milioni per me la Roma accetta tranquillamente perché comunque è una plus valenza facile per un giocatore che secondo me andrà via cioè io penso che quando poi Rui Patricio smetterà di essere il titolare della Roma la Roma non prenderà, non promuoverà Svilar come primo quindi in futuro è sicuro che debba andare via no, si ripete un po' la cosa relativa a quanto è successo con Skorupski secondo me e quindi Svilar per me te lo potresti prendere quindi io avrei in porta Skorupski, Svilar, Ravaglia e ancora il mio bilancio a 20 milioni di euro andiamo adesso ai difensori centrali per quanto concerne il tassello relativo ai difensori centrali qui i rosso-blu hanno Lukumi, Sumahoro, Bonifazi e Sosa allora vi dico chiaramente che su Lukumi c'è mezzo mondo e per quanto mi riguarda l'altro mezzo ce lo metto io e Lukumi me lo tengo rifiuto ogni tipo di offerta in questo momento non ho bisogno di monetizzare da Lukumi non ho bisogno di monetizzare punto non ho bisogno di far soldi da Lukumi perché se vendessi Lukumi dovrei andare a prendere un altro difensore non mi fido di Sumahoro allora vi dico la verità Sumahoro e Bonifazi li rideputo due buoni difensori discreti che però mi fanno la panchina cioè per la panchina mi sono perfetti sono due giocatori veramente perfetti per la panchina che quando mi interessa li butto dentro che mi sono utili e va bene però resta pur sempre il discorso che sono buoni per la panchina quindi mi vanno benissimo Sumahoro e Bonifazi per la panchina me li tengo e vi dirò che mi tengo anche Sosa come quinto in questo momento però Lukumi è il mio titolare e non si tocca va detta anche un'altra cosa che qui torna Binx che vale 3 milioni di euro e io Binx lo prendo in pacchetto e lo cedo a 3 milioni di euro perché sono soldi che ci possono far comodo nell'economia finale quindi che cosa vado a fare? il Bologna ha fatto una scelta ha preso Beukema dalla sed Alkmar a 7 milioni di euro io visto che i mercati che farei me li preparo prima nella mia idea pensavo che il centrale perfetto per far coppia con Lukumi fosse Nicolao dello Spezia e avrei risparmiato anche dei soldi perché per me Nicolao con 4, 4 e mezzo te lo porti a casa a Beukema lo pagheresti 7 però vi posso dire io l'ho visto giocare Beukema questa ho visto diverse gare della sed e a me piace mi piace anche più di Nicolao quindi sì sì va bene Bologna investo quei 7 milioni che tu hai speso e me lo porto in rosso-blu per me una coppia difensiva Lukumi-Beukema è veramente poi spero si che a Beukema e non Beukema ma penso di che a Beukema poi lo capiremo ovviamente a stagione in corso i giocatori che arrivano li pronunciamo sempre male poi ci adeguiamo insomma anche a quello che scoprono chi lavora, commentatori eccetera quindi Pepe-Beukema è un ottimo difensore che con Lukumi potrebbe tranquillamente fare una coppia perfetta e poi abbiamo anche i panchinari che sono giocatori validi quindi avremo Lukumi-Beukema su Mauro Bonifazi-Sosa e il bilancio in attivo a 16 milioni di euro detto ciò andiamoci a guardare la fascia destra sulla corsia di destra i rosso-blu hanno Posh e De Silvestri e qua a me è dispiaciuto e vi dico proprio le cose come stanno perché Posh faccio il discorso di Lukumi c'ha tanto mercato non me ne frega niente per me Posh deve rimanere almeno un'altra stagione credo che si possa ripartire possa continuare con Posh e credo che se vogliamo andare in Europa League un calciatore come Posh tu non lo lasci partire ha un mercato si ha un buon mercato Posh sicuramente però non me ne frega niente al momento io rifiuto ogni tipo di offerta e io nel mio immaginario mi sarei tenuto De Silvestri come Panchinaro però De Silvestri ha deciso di rescindere e andare via a parametro zero e quindi ovviamente questa è una decisione che va oltre il mio perché io dico sempre questo è il mercato che farei io sì ma se mi sento De Silvestri e ci voglio annammene allora De Silvestri lo lascio andare quindi è giusto che De Silvestri lo conto come ceduto c'era un altro giocatore che secondo me tutto sommato poteva far bene cioè era Cassius che io quando l'ho visto ho detto ma sai che c'è ma Cassius è un bel terzino gioca a destra gioca a sinistra però è stato ceduto per 3 milioni di euro io penso che 3 milioni di euro comunque non siano male per Cassius penso che qui si possa far meglio spendendo più o meno quella cifra là e quindi personalmente anche su Cassius posso accettare la mossa del Bologna qua però io vado a fare una mossa secondo me intelligente non vado a prendere un giocatore il primo a cui ho pensato era Beresischi che è un tappo cioè lo metti lì ha fatto 6 mesi al Napoli è tornata alla Samp in Serie B tu gli hai la possibilità di rimanere in Serie A quanto te lo tieni Beresischi c'ha 30 anni sta là sta zitto non fa niente l'anno prossimo vieni poche e metti un trentenne e fai 10 passi indietro non voglio fare quello io voglio fare un passo in avanti e qual è il mio passo in avanti ve lo dico e poi ve lo spiego Jan Couto Jan Couto è il mio passo in avanti perché Jan Couto è il mio passo in avanti innanzitutto Couto ha fatto una stagione fuori all'estero e poi è tornato al Manchester City dopo essere cresciuto abbastanza però non ancora così tanto Jan Couto ha un cartellino che secondo Transfermarkt si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro una cifra per me assolutamente spendibile in quello che è un calciomercato che mi sono immaginato del Bologna anche perché sarebbe un milione in più di Casius e a me questo Jan Couto sulla fascia destra piace veramente veramente tanto è un giovane forte di prospettiva capace interessantissimo e allora però perché lo prendo e lo metto in panchina dietro a Posh perché inizio a fare il progetto Sassuolo che cos'è il progetto Sassuolo è quello che farò per tutto il video e che per me il Bologna deve prendere per mano se vuole ambire a diventare una società fatta bene e quindi Jan Couto per me è il futuro titolare della fascia destra del Bologna quindi quest'anno giocherà Posh e si integrerà Jan Couto a fine stagione Tiago Motta dovrà essere talmente tanto bravo da poter dire Couto è pronto per giocare da noi Couto è pronto per fare il titolare Posh quanto vale adesso che siamo arrivati in Europa League 20 milioni 25 perfetto puoi andare monetizzo Jan Couto mi diventa il titolare e nel frattempo mentre Jan Couto mi diventa il titolare andrò a spendere altri 6-7 milioni perché potrò permettermene più di 4 visto che avrò avvenuto Posh a 20-25-30 quanti saranno per prendere il futuro Jan Couto quindi mi fai un anno un anno e mezzo due anni Jan Couto da titolare per poi andare a prendere andare a promuovere quello che sarà poi il vice Couto che adesso fa il giocatore del Manchester City a Bologna quindi l'idea è quella di avere sempre un calciatore pronto che mi permessa di fare un sacco di soldi con il titolare ma che il panchinaro arrivi al livello del titolare prima che il titolare possa partire quindi per me Couto è veramente tanto forte se devo andare a tenermi Casius a 3 milioni vado a prendere Couto a 4 milioni se devo andare a prendermi Beresischi in prestito con diritto di riscatto è una mossa che mi fa fare 10 passi indietro anche se riuscissi a prenderla a parametro 0 sarebbe comunque una mossa che mi farebbe fare 10 passi indietro e quindi personalmente io con Posh Couto il bilancio di attivo a 13 milioni di euro me ne volo sull'altra fascia sulla fascia sinistra abbiamo ancora più problemi che sulla fascia destra perché se sulla fascia destra avevamo il problema di prendere un panchinaro che poi insomma potessi essere il futuro della fascia destra sulla fascia sinistra non abbiamo il titolare cioè quest'anno era cambiaso il titolare però quanto era titolare cambiaso oggettivamente quanto era titolare cambiaso e poi soprattutto ha un prestito era in prestito a me non mi ha convinto per quanto riguarda se ne può tornare alla Juventus è tornato alla Juventus lo saluto Kiriakopoulos non lo vado a riscattare non me ne frega niente può tornare da dove è venuto e quindi saluto anche lui l'unico che tengo di questi è quello che realmente è di mia proprietà ovvero Ligo Giannis ma non perché lo reputo un buon giocatore Ligo Giannis è esattamente quello che è che sarebbe stato Beresischi se fossi andato a prenderlo sulla fascia destra cioè un momento un tappo per come vedo io per una squadra che vuole ambire ad andare in Europa ogni anno migliorare però al momento dobbiamo già prendere il titolare spenderemo già bei soldi per prendere il titolare quindi non mi sento di andare a prendere anche un panchino per sostituire Ligo Giannis anche perché il terzino destro che vado a prendere lo vado a prendere facendo un investimento importante e investo 8 milioni di euro che è il suo valore di mercato anche per Transfermarkt e vado a prendermi dall'Ellas Verona Doig allora io penso che Doig sia un giocatore adatto per questo Bologna per costruire un Bologna che voglia andare in Europa innanzitutto penso che anche lui potrebbe accettare considerando che a Verona insomma quest'anno ha rischiato la Serie B quindi il Verona potrebbe dire ma sai che c'è una cifra 8 milioni te lo vendo rischio che vado in B lo vendo a 2 milioni intanto te lo vendo e lui farebbe un grande passo in avanti perché poi che se ne dica passi da essere arrivato 17esimo ad essere arrivato 9o perché il Bologna è arrivato 9o poi il Bologna è una squadra che può andargli male arriva 10esima 11esima 12esima non è che retrocede con il Verona sei sempre lì a rischiare e Doig per me che il calciatore verrebbe da me per quanto riguarda Ligo Giannis il ragionamento che ho fatto su Couto a destra lo farò l'anno prossimo quindi l'anno prossimo capirò se Ligo Giannis al momento non mi ricordo non posso sapere tutto andrò a valutare se Ligo Giannis ha già un contratto che gli scade a 2025 2024 2026 non lo so se gli scade 2024 perfetto lo lascio andare via a parametro 0 e vado ad investire dei soldi parte dei soldi che ho preso tra l'altro dall'eventuale cessione futura di Posh per prendere il nuovo Couto ma di fascia sinistra quindi un giovane mi tengo anche Doig Doig lo prendo non per venderlo tra un anno gli faccio fare almeno due anni quindi anche l'anno prossimo se dovesse arrivare offerti di 25-30 milioni Doig non si muove tra due anni lo vendo perché avrò il terzino pronto senza doverlo andare a rimpiazzare perché se tu vendi uno forte e non ce l'hai pronto deve adattarsi ci mette tanto perdi punti e non è un progetto non è una progettualità che mi piace quindi io sulla sinistra mi tengo al momento Doig Ligo Giannis e il bilancio in attivo ancora ma solamente di 5 milioni di euro passiamo adesso in mezzo al campo in mezzo al campo il Bologna c'ha una fracca di gente io non ho la più pala idea di quanta gente abbia il Bologna in mezzo al campo andiamo a vederli insieme c'ha Dominguez Scouten Moro Ferguson Aebischer PTA non so come si pronunci Mikael e Medel allora un sacco di gente qua ragazzi va cacciata su tanta altra gente invece cercherò di dimostrarvi una progettualità un po' come ho fatto in precedenza quindi sempre progetto Sassuolo cioè progetto Vendo ma c'ho già il sostituto pronto partiamo dal basso Medel via Parametro Zero se ne andate a Parametro Zero sono assolutamente d'accordo con questa scelta ciao PTA e Mikael li presto entrambi anche perché non li so pronunciare quindi parte gli scherzi comunque li vado a prestare non li voglio più vedere mi tolgo tra l'altro per intero la parte destra delle due liste detto questo mi rimangono altri 5 Aebischer a me piace tanto Aebischer mi piace tanto perché può giocare ovunque un giocatore molto utile mi gioca da mediano mi gioca da mezzana mi gioca da ala mi gioca da trequartista insomma Tiago Motta dove ha bisogno lo mette e quindi io sinceramente me lo tengo e poi qua abbiamo quattro titolari cioè Dominguez Scouten Moro e Ferguson Moro è stato riscattato e Moro secondo me sulla carta al momento Nicola Moro è forse quello che è ancora un pallino dietro cioè nel senso un pizzichino dietro io vedo bene ancora Scouten titolare in mediana Dominguez e Ferguson questo è il mio Bologna che vedo io e io mi tengo tutti questi cioè mi tengo Scouten in mediana Dominguez da una parte Ferguson dall'altra qual è il mio obiettivo innanzitutto il mio obiettivo è quello di far fare l'ultima grande stagione a Scouten poi a fine anno se ne andrà 30-35 milioni perché Moro dovrà essere pronto Moro è un mediano è pronto secondo me ad essere un buon calciatore lo reputo un ottimo giocatore quindi questa sinceramente è una mossa che andrei a fare penso che potremmo farla e Moro è pronto poi per prendere l'anno prossimo il posto di Scouten però per me ha bisogno di un'altra stagione questa sarà quella del riscatto poi Pampino giocherà sempre di più non togliendo il posto a Scouten giocando entrando in varie partite ritagliandosi degli spazi importanti e va bene così io qua potevo stare a posto però sapete che c'è che possiamo pensare anche a migliorare visto che tanto un po' possiamo investire il centrocampo potremmo pensare anche di monetizzare in futuro un po' come abbiamo detto con Scouten con Dominguez io non so quanto Dominguez ancora rimarrà a Bologna penso che se il Bologna arriva in Europa League Dominguez o Ferguson insomma uno dei due ma penso più Dominguez oggi mi vale più Dominguez secondo me ma Ferguson è un ottimo calciatore vale anche tanto Ferguson penso che uno dei due l'anno prossimo se ne andrà e dovrei andare ad investire su una mezzala ora chiaramente avremo i Bisher però i Bisher è giocatore che io mi tengo sempre come dodicesimo cioè per me è un giocatore fortissimo per fare il dodicesimo lo metto quando mi serve lo metto dove mi serve ma non per farlo entrare per forza dalla panchina anche titolare però c'è bisogno di una mezzala gioco c'è bisogno di un mediano gioco c'è bisogno di un tre quartista gioco c'è bisogno di un mediano gioco cioè dove lo metto non ha mai cambiato maglia è sempre rimasto con i blu di Londra e quindi personalmente di Liverpool perdonatemi non di Londra Leverton è di Liverpool i blu di Londra sono il Chelsea quindi io penso che lui sia pronto Tom Davis anche a fare un grande salto e a prendere per mano un'altra squadra magari cercando di essere protagonista questo Tom Davis per me è veramente forte cioè per me già vale una decina di milioni ma è svincolato e io penso che l'anno prossimo se questo fa una stagione discreta veramente va a valere 16-17 milioni 18 milioni prendendo il posto magari di un Dominguez per questo nella mia testa andando a prendere Davis io mi immagino vi faccio un esempio che il prossimo anno io avrò a parte avrò già incassato dei soldi come vi ho già detto da un'eventuale cessione di posh ma questa è un'altra storia ma soprattutto avrò in questo caso Dominguez che lo cedo e faccio un sacco di soldi Scouten che lo cedo e faccio un sacco di soldi perché Moro mi è diventato titolare in Mediana Ferguson rimane mezzala titolare Davis mi è diventato titolare in Namezzala e Ibsher è pronto per fare il dodicesimo e in questo caso andremo a prenderne altri due quindi un altro mediano giovane un'altra mezzala giovane o comunque rampa di lancio o comunque occasioni come ho fatto appunto con rinnovando riscattando Moro ma anche rinnovando cioè andando a prendere a parametro zero Davis per poi magari fare sempre lo stesso processo che però ci permette di investire sempre di più perché investire sempre di più perché magari vi sto dicendo quest'anno il Bologna che vi sto creando io ha speso 4 per prendere Couto l'anno prossimo se vendo posh a 40 pre Couto mi è titolare ecco che il suo situto lo vado a pagare 8 lo vado a pagare 9 non 4 e così magari anche in questo caso che magari Ferguson no Ferguson Davis l'ho presa a parametro zero l'anno prossimo a centrocampo ad investirne 10-12 per prendere la futura mezzala quindi il ragionamento è questo qua a centrocampo avremo Dominguez Scouten Ferguson e il biancino attivo di 5 milioni di euro andiamo adesso sulla tre quarti allora qui ho fatto una scelta che secondo me tra i tre quartisti potreste anche non accettare però mi sono trovato forzato e penso che tra tutta questa bella gioventù il Bologna abbia comunque anche bisogno di avere dei calciatori esperti quindi vabbè non parlo di quarantennia sia caro però parlo di un'alternanza che potrebbe far bene ai rosso-blu soprattutto perché poi in attacco perderemo un calciatore esperto avete già capito di chi sto parlando non è che ci volesse una scienza e quindi sotto questo punto di vista potremmo avere poi il calciatore pronto anche per avere un po' d'esperienza sulla tre quarti ma andiamo per gradi Sansone e Soriano se ne sono andati entrambi a parametro zero ecco io vi dico la verità nel Bologna che avevo immaginato prima di vederli andare a parametro zero una decina di giorni fa perché primo luglio poi si sono svincolati io mi sarei tenuto sia Sansone che Soriano quindi i primi titolari erano Barro e Orzolini con Sansone e Soriano che andavano rivalutati se ne sono andati tutte e due essendo se ne sono andati tutte e due qua due giocatori bisogna prenderli posto poi che decidiamo di tenere sia Barro che Orzolini allora Orzolini non si muove Orso rimane Orso ridolare ha fatto 11 gol e 4 assist da quando è arrivato Tiago Motta lui è cambiato drasticamente è un giocatore straordinario Orzolini lo blindo e me lo tengo ho più dubbi su Barro cioè io Barro me lo tengo ha fatto comunque i suoi 8 assist ha segnato realmente poco in realtà ha fatto 3 gol mi sembra sempre un giocatore al quale manchi il centesimo per arrivare all'euro però noi oggi non abbiamo i soldi per andare a investire su un sostituto di Barro perché e tenendo anche Barro perché poi Barro è molto giovane se lo vendi un po' ci fai economicamente però rischi di perdere un calciatore che possa diventare forte quindi al momento che cosa faccio mi torna Vignato e io Vignato per la panchina me lo tengo penso sia un buon giocatore ovviamente se vedete che manca qualche giovane perché qui ne manca sicuramente qualcuno c'è qualcuno che torna qualcuno che va quelli che non vedete lì presto tutti o sono i suberi comunque li tolgo dei coglioni 18 anni 19 anni 20 anni che insomma non fanno parte del progetto se non li ho messi non fanno parte del progetto è chiaro detto questo vi dicevo io non mi sento allora Vignato torna me lo tengo come quarto perché ne ho bisogno ricordiamo che qua volendo posso metterci ci butto dentro anche i bischer non me ne frega niente però volendo posso farlo detto questo io ho bisogno di un titolare ora cioè nella mia testa c'è un Barro che deve fare quello che farà Couto quest'anno quello che farà Moro quest'anno quello che farà Davis quest'anno cioè Barro deve ancora adattarsi lo so mi dispiace però non è pronto è ancora molto giovane cioè non ha 30 anni ha tipo 23 24 lo voglio cercare per essere sicuro e per non fare delle figuracce Musa Barro è un classe 98 ha 24 anni ne farà 25 quest'anno non è ancora pronto mi dispiace voi magari mi aspettavate sì mi dispiace ma non è ancora pronto secondo me Musa Barro quindi me lo tengo ma un titolare va preso e il titolare lo prendo a zero si svincola dall'Udinese vado a prendermi un giocatore che cerca di una nuova sfida ovvero Pereira non so se accetterebbe il Bologna certo è che questo è un progetto solido quindi potrebbe anche accettare avremo anche un'offerta secondo me congrua economicamente parlando da fargli quindi tutto sommato potrebbe anche trovarsi ad accettare proprio questa situazione qua è vero che si è svincolato dall'Udinese per tentare di salire però se l'interno lo prende al momento magari lo prende ma al momento non l'ha preso o magari non lo prende la Juve magari non lo prendono dei top club noi comunque lo facciamo giocare di dolare e per me giocando poi eventualmente con un 4 4 3 4 3 2 1 quello che mi immagino appunto è un Pereira è un Orsolini che si muovono dietro la punta e che possano darmi quel qualcosa in più questo vuol dire che panchino ufficialmente Barro no Barro fa parte del giro dei titolari quando poi andrò a farvi vedere la formazione dei titolari tra poco Barro sarà tra parentesi bello in evidenza tra tutte e due perché io posso scegliere se voglio un gioco un po' più di qualità metto Pereira se voglio un gioco un po' più veloce faccio giocare insieme Orsolini e Barro posso far giocare anche Pereira e Barro insieme posso mettere Barro ogni partita al 46esimo cioè posso mettere Barro anche prima punta volendo perché l'ha fatto quindi nel senso io mi do un'occasione in più Pereira se non sbaglio c'ha 32 anni mi alza un pochino l'età media perché qualche calciatore di questo tipo qua mi fa comodo quindi sulla tre quarti avrei Morsolini Pereira Barro Vignato e il bilancio in attivo di 5 milioni di euro passiamo adesso alle punte qua abbiamo un grosso problema abbiamo anche un leggero budget come vedete qua sotto 5 milioni in attivo però abbiamo un grosso problema il grosso problema ragazzi è che abbiamo Arnautovic Zirkzee e Raimondi Zirkzee me lo tengo se dovessero arrivare offerte io le rifiuto Zirkzee me lo tengo ed è il mio vice perché poi proverò ad andare a prendere un attaccante un titolare un colpo esotico oggettivamente un colpo esotico però lo andrei a fare nel frattempo parliamo degli altri Raimondo lo vado a cedere non mi piace cioè non mi piace è giovane ancora non me la sento penso di poter andare a prendere un altro calciatore titolare ma soprattutto qua vado a vendere Arnautovic dispiace lo vado a vendere a una decina di milioni 10 milioni qualcuno di tutto parlava di 15 20 non me ne frega io 10 milioni lo cedo ha tipo 33 34 35 anni non lo so comunque non è giovane per niente è vero che dava esperienza ragazzi ma Tiago Motta non lo può vedere ora non lo so magari no però da quello che pare e da quello che appare sì è così cioè Tiago Motta ogni volta è una storia per far giocare Arnautovic quindi personalmente penso sia arrivato il momento di cederlo è stato detto a più riprese che partirà e poi svecchiamo anche l'attacco quindi Arnautovic lo andiamo a cedere detto questo qui dobbiamo averne per me almeno due cioè io voglio averne due voglio avere una punta titolare Zirk Zee che è un buon giovane giocatore che può esplodere magari poi in futuro andremo proprio a vendere il primo se Zirk Zee esplode lo renderemo il titolare lui un po' come abbiamo fatto per tutte le posizioni fino a questo momento ma soprattutto il terzo deve essere una scommessa il terzo non lo vado a pagare perché non lo prendo manca a parametrizzare ma anche in prestito è mio mi torna in prestito Van Oidonk ragazzi che quest'anno ha fatto 31 partite 16 gol cioè quindi ha segnato con una costanza gigantesca ha fatto veramente benissimo non è un giocatore a cui mi sento di legarmi per una titolarità però comunque può essere una scommessina interessante il calciatore sul quale vado per la titolarità è Victor Boniface Victor Boniface Boniface Bonifaz Bonifaz come cazzo si pronuncia del San Gilua dell'Union San Gilua ha fatto una stagione pazzesca all'Union lo paghi Transfer Market dice 12 io dico 15 più bonus lo paghi perché secondo me è un ottimo attaccante di più no perché poi non ha fatto non è mai esploso completamente però questo ragazzi è uno che quest'anno ha fatto 22 gol e 12 assist dimostra pure lui è una prima punta non è una seconda punta una punta d'accompagnamento è una prima punta quindi dimostra di essere un attaccante un regista offensivo tra l'altro un attaccante che crea che costruisce perché non fai 12 assist oltre ai 22 gol se non passi il pallone lui lo fa ma soprattutto la cosa che mi ha stupito è che in Europa tra i preliminari di Champions League e l'Europa League che ha giocato tra l'altro da gran protagonista ha fatto 11 gol cioè 11 gol in Europa ragazzi sono tanti ha fatto anche due assist ma ha fatto 11 gol cioè questo Bonifaz secondo me andrebbe valutato per bene detto questo andiamo a vedere rapidamente la formazione finale che ho costruito per questo Bologna ve la faccio vedere eccola qua guardate tra l'altro che perfezione nell'averla messa in campo con un 4-3-2-1 ve la leggo seduta stante quindi abbiamo Skorupski tra i pali Lukumi e Beukema centrali a destra gioca Posh a sinistra gioca Doig e in mediana Scouten con Nicola Moro pronto a prendere il suo posto Dominguez con Tom Davis pronto a prendere il suo posto Ferguson Pereira e Orszulini in mediana ma Barro è un giocatore che va considerato come interessante per questa squadra e poi davanti abbiamo Bonifaz titolare con Zirk Zee anche Van Oud anche volendo però insomma secondo me abbiamo una squadra di tutto rispetto gli acquisti fatti sono stati Beukema Doig Davis Pereira e Bonifaz però secondo me sono 5 acquisti di cui c'è bisogno su cui vale la pena investire e che potrebbero davvero farci bene 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 per il futuro della nostra squadra questo è il mercato che io farei del Bologna fatemi sapere il mercato che voi fareste fatemi sapere se siete d'accordo per me è un gran mercato questo Bologna potrebbe tranquillamente andare in Europa League si è allenato bene se con Tiago Motta ha costruito il progetto che va costruito fatemi sapere se vi piace iscrivetevi al canale mi raccomando arriviamo a 480.000 iscritti per il mercato che farei del Genoa neopromosso e se non avessi una bandiera non saprei che vento tira boccia l'allende come sempre ci vediamo al prossimo video